Quando io ero studente universitario, di adivita un libro in cui c'erano delle traduzioni maccheroniche di frasi e di aforismi latini, per esempio, omne trenum est perfectum, in ogni treno c'è un prefetto. E c'era anche la frase, tot capita, tot sentenzie. Io la tradussi, tutto capita nelle sentenze. Avevo ragione. Secondo Rubin è un procedimento scandaloso che si basa su delle stupidaggini. Si propugna una concussione per una sola telefonata di richiesta di informazioni a un funzionario non conosciuto della questura di Milano. Altra accusa, induzione alla prostituzione di una minorenne che si diceva maggiorenne e che tutti ritenevano maggiorenne, la quale minorenne ha affermato sempre e in tutte le circostanze di non essere stata toccata da me nemmeno con un dito. Grazie.